ulteriore consolidamento di un campo di alta pressione di matrice sub tropicale con tempo stabile umido e soprattutto molto mite temperature superiori alle medie del periodo su gran parte dell'europa in toscana lunedì 22 febbraio cielo sereno poco nuvoloso venti deboli in prevalenza orientali mari poco mossi localmente mossi a largo temperature stazionarie con massime tra 16 e 18 gradi in pianura valori decisamente superiori alle medie del periodo anche sul territorio provinciale tempo stabile localmente velato in serata a lucca e sulla piana temperatura minima 4 massima 17 gradi in valle del serchio e zone montane minima 4 massima 16 a via regge sul litorale minima 7 massima 16 gradi martedì situazione generale stazionaria 6 massima 16 gradi in via regge sul corretto si è tutto in via regge sul corretto si è sotto il periodo Italia in campo in 보는